Ciao ragazzi, in tutte le discipline sportive di tiro, ma soprattutto nella nostra, si parla spesso di preparazione atletica, preparazione sportiva, ma nessuno ha mai toccato con mano per bene questo argomento. Ho deciso di trovare una soluzione che sia efficace, che non sia dispendiosa in termini di tempo e che non richieda l'utilizzo di tantissima attrezzatura, una cosa che possa essere alla portata di tutti. Bene ragazzi, mi sembra ovvio che è arrivato il momento di fare qualcosa, anche in vista degli obiettivi che mi sono posto per il prossimo anno, quindi adesso bisogna iniziare una buona preparazione atletica e per farlo ho deciso di chiedere un aiuto a una persona molto competente in materia. Partendo dal presupposto che odio andare in palestra, mi è venuta in mente una soluzione, o meglio, negli anni passati ho avuto la fortuna di fare un po' di pugilato e un po' di arti marziali e credo che la preparazione e la base dei movimenti tecnici di queste attività e discipline siano assolutamente usufruibili anche nel nostro contesto. Quindi ho deciso di chiedere aiuto a un amico, andiamo a conoscerlo. Bene, adesso vi presento il nostro coach, sono carico con una molla. Ciao Pietrus. Grazie, stai facendo. Ciao ragazzi, mi presento, conosco questo disperato da qualche anno, mi chiamo Pietro Penini, sono un professionista di MMA, attualmente combatto in Bellator, una delle due promotion più importanti al mondo. Ho deciso di accogliere qui oggi Francesco, in qualità di vecchio amico e vecchia conoscenza, in ESMA, la palestra di arti marziali e sport a combattimento della mia famiglia. Io gestisco i corsi di arti marziali, di MMA, di Jiu Jitsu e di kickboxing. Allora il problema è che io odio andare in palestra, però è appurata la cosa, però adesso ho bisogno di una mano perché sono diventato un comodino, cioè nel senso dobbiamo fare qualcosa. A me non mi interessa avere gli addominali, mi interessa curare quegli aspetti che servono nel nostro contesto e non c'è nessuno che ha mai toccato con mano questi argomenti, quindi memore di quando facevo pugilato eccetera, dove tutti i movimenti, soprattutto l'agilità sulle gambe, la reattività, vedo che sono fondamentali per il nostro giochino. Ho voluto chiederti, e stiamo lavorando su questo, per trovare una soluzione, per trovare qualcosa che sia fattibile da tutti, senza attrezzi, senza ore e ore di allenamento e suddividendo un po' come possiamo fare. Chiaro, ma in realtà avendo appunto già lavorato un po' negli anni, ci siamo accorti che tutti quelli che sono gli spostamenti basi, i movimenti, le abilità di base, possono essere la velocità, l'attività, la velocità nello spostarsi da un punto A a un punto B, che ci sono nell'MMA come negli altri sport a combattimento, sono molto simili e possono sicuramente andare bene anche per il tiro dinamico. Ragazzi, una cosa che ve la dice Pietro? Allora, una cosa dovete fare, al di là di guardare i video, iscrivervi al canale in modo da essere sempre aggiornati poi con i prossimi video che faremo che farà Francesco. Ci si perde troppo in allenamenti, chiamiamoli, classici, che possono essere fatti in una palestra qualsiasi, ma che non sono poi così mirati, insomma. Difatti, che poi il discorso che facevamo anche prima, cosa interessa? A noi non interessa saper correre tre ore in top tempo, a noi interessa avere la resistenza che ci permette di fare una gara senza andare in affaticamento. Interessa avere la reattività, l'ucidità soprattutto, argomento di cui parlavamo prima che mi ha stupito un sacco perché poi lui nel suo contesto, quindi nell'MMA, finché sono lì che si picchiano come i pazzi, in sedute che durano, cioè in match che durano un sacco di tempo, lì con tutta l'adrenalina che c'è, la fatica fisica, eccetera, bisogna veramente avere tanta preparazione per mantenere la lucidità e la lucidità è quello che serve anche a noi perché comunque abbiamo quel frangente in cui iniziamo dove la lucidità va a sparire, se poi la andiamo a sommare a tutto quello che è lo sforzo fisico, se non siamo allenati diventa un grosso problema, no Pietro? Sì, assolutamente, spesso il nostro battito schizza, sale alle stelle e oltre al problema di non immagazzinare ossigeno abbiamo anche il problema che cominciamo a vedere a nebbia alto, il nostro visuale non è più lucido come prima, questo fa sì appunto che poi sia più difficile tirare al bersaglio, al di là che poi uno abbia tanta o poca mira, se il bersaglio non lo vedi credo che sia più difficile prenderlo. In più, scusa ti interrompo, ma noi già di default abbiamo un problema grosso che quando iniziamo l'esercizio durante la gara, per adrenalina per x motivi, già la visuale sulle mire che deve essere assolutamente nitida e perfetta, la dobbiamo allineare benissimo, già quello è un problema comune a tutti che diventa meno precisa, cioè già di default anche se non abbiamo il problema che hai appena citato, cominciamo a sfuncare, a non essere precisi. Sì, quello è dovuto tanto anche appunto all'adrenalina, uno degli effetti dell'adrenalina, il primo forse, io non sono un medico, però è quello che alza il battito, le stelle subito, boom, 180, 190, il cuore che batte, oddio non vedo più bersaglio, oddio non sono capace di tirare. Se noi andiamo a abbassare il nostro battito, si abbasserà anche l'adrenalina. Quindi dobbiamo andare a curare questo aspetto qua, però senza far sedute da ore di corsa, bici? Non è una cosa che si migliora con delle sedute lunghissime, anzi è proprio un dato di fatto, che lavorare sulla respirazione per un tempo troppo lungo non ha senso anche perché non riusciamo a essere concentrati su una cosa così specifica per un tempo molto lungo. Per assurdo in realtà bastano 5 minuti al giorno. Perfetto. Parliamo proprio di 5 minuti, non tanto, poco. Queste sono le cose che dobbiamo trovare, dobbiamo trovare degli esercizi che ci permettano di lavorare delle skills definite, come dicevete prima, finché parlavamo adesso non ricordo, però è inutile lavorare su tutto, non abbiamo né il tempo né la volontà, soprattutto io. Dobbiamo lavorare su quello che ci serve, quindi facciamo così, adesso ci troviamo io e te come da accordi andiamo sul campo che così avrai modo di vedere bene cosa intendo io e vediamo se quello che intendi tu è compatibile. Mettiamo un po' a posto eccetera eccetera e cerchiamo di sviluppare un qualcosa che poi sia fruibile per tutti. Assolutamente sì, penso sia la cosa più intelligente per tutti. Perfetto. E quindi che dire, intanto un grazie grande, grande, grande. Sicurati, grazie a voi anzi di avermi chiesto un aiuto. Guarda, perché c'è il problema del covid, sennò facevamo due scambi, qua io facevo vedere come... No dai, adesso i prossimi punti... Concentriamoci sullo sparo che è meglio. Sì, sì, meglio, meglio. Tiro su questo che è un po' più morbido. Ah, io, perché ho paura che mi faccio del mare, che sono una bestia invece. Vedere, ora qua. Che merda, c'è duro. Non ti muovi male, bro. Non ti muovi male, sì, un po' come una figlia. Non ti muovi male. Fai a vedere a te questi pacchi. Questo è più morbido. Più duro. Sì, basta, basta, andiamo a casa. Fa solo.